Il presidente del Consiglio regionale è intervenuto alla presentazione del libro Sport e sportivi piemontesi come non li avete mai visti, tenutasi il 18 maggio all'Arena Piemonte. Un volume di 160 pagine con moltissime illustrazioni tra le quali i 25 inediti di Benni, al secolo Benedetto Nicolini. Oltre al presidente sono intervenuti moltissimi personaggi dello sport tra i quali Livio Berruti, Oro Olimpico a Roma 1960, che ha scritto l'introduzione del libro ed è protagonista di un capitolo. Il direttore di Tutto Sport, Vittorio Oreggia, ha moderato questo parterre de roi con un susseguirsi di brevi interventi nei quali si è parlato non solo delle glorie sportive, ma anche della tradizione agonistica piemontese e della funzione sociale dello sport. Livio Berruti, la tua impresa ha segnato un'epoca a Roma. Sei un simbolo dello sport pulito e buono. E questo libro forse può anche servire a dare un messaggio positivo. Sei contento di essere stato una parte così importante in questo libro? Certamente mi fa molto piacere perché avendo fatto sport con il sorriso, con lealtà e nel rispetto delle regole, penso faccia piacere per venire ad essere apprezzati. E soprattutto è bello perché è uno libro fatto con tanta ironia, perché aver fatto delle caricature dei campioni permette agli sportivi e non sportivi di capire l'anima dei campioni che sono frutto di tanta passione, di tanto amore e l'ironia ti permette di vivere lo sport con il gioco e con il sorriso e non con il dramma. Santiago Morero, un argentino che indossa una maglia tra le più gloriose del calcio, non solo piemontese ma italiano. Sì, per quello che mi è stato raccontato, i grigi sono una parte dell'istoria del calcio italiano e quindi per me indossare questa maglia è una soddisfazione importante. Sei protagonista di questo libro sullo sport piemontese. Qual è la testimonianza che tu dai portando lo sport piemontese in giro per il mondo con le tue capacità fantastiche, le tue medaglie? Certamente l'immagine di uno sport fatto di grandi sacrifici, di grande dedizione, di grande volontà è legato ai valori veri della vita. Anche credo con grande semplicità perché penso che ricondurre un po' tutto poi all'umiltà sicuramente non faccia male all'immagine dello sportivo. Il rugby, sport di regole, di vita, sport di sportivi veri? Sì, è uno sport dove ci sono tanti valori e che secondo me è completo, si impara anche a stare il mondo e poi alla fine il rugby diventa una famiglia.